La vita che batte nel cuore dei fiori, l'infinito ti canta le canzoni del cuore, ti nascondi dentro un po' di pane, la gente quando è stanca vuole te. Allora io non sono un fulmine nella musica, anzi tutt'altro lasciamo perdere, però vabbè mi capita abbastanza spesso di andare a messa e di celebrarla. Ragazzi a volte senti delle cose inudibili nei canti liturgici e allora ho pensato di fare una piccola classifica dei cinque canti liturgici che meno mi piacciono in assoluto. Sono pareri miei eh, me ne assumo tutte le responsabilità, però secondo me in questi canti qualcosa che non va c'è. Al quinto posto giovane donna, lo metto al quinto posto perché vabbè tutto sommato non è malissimo. Ma ragazzi giovane donna, la madre di Dio, la figlia di Sion, la stella del mare, la regina degli angeli e dei santi, la rosa mistica. Pensate solo alle litanie con quanti bellissimi titoli viene invocata Maria. Giovane donna, sì potrebbe essere una giovinezza spirituale perché la giovinezza è immagine di... Boh non so mi sembra un titolo un po' banale, tipo un desiderio d'amore e pura libertà che non ho mai capito bene cosa voglia dire. Al quarto posto ci metto vieni con me. Presente quel canto vocazionale che di solito si fa? Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno il mondo se tu lo vuoi. Ragazzi c'è una strofa veramente inudibile. Si dice ho passato certe notti a sentire certe voci che venivano da dentro e io dicevo sono sogni. Cioè da formatore in seminario se mi arriva uno che mi dice che passa le notti a sentire certe voci E mica lo prendo in seminario, lo vando in psichiatria. E la vocazione non è sentire certe voci. Sentire certe voci che vengono da dentro uguale ai problemi. No dai la vocazione non è sta roba che è sentire certe voci che vengono da dentro. È tutta un'altra roba e spero appunto che uno che viene in seminario non è perché ha sentito voci che altri non sentono. Al terzo posto silenzioso Dio. Non so se è così conosciuto. Dalle mie parti è un canto eucaristico giovanile che dice pane di vita sei Cristo Signore per noi nell'eternità la vita ci darai. Eh ma c'è un versetto che è veramente inudibile. Io ti amo silenzioso Dio che ti nascondi dentro un po' di pane. Eh però l'eucarestia non è questa cosa qui. Non è Dio che si nasconde dentro un po' di pane. È proprio che quel pane è il corpo di Cristo adesso. E pensare che Dio si nasconde dentro il pane, se volete, è proprio la forma tecnica della consustanziazione. Che è come i nostri fratelli protestanti pensano all'eucarestia. Attenzione non ce l'ho con loro. E dico solo che per noi cattolici non è che Gesù si nasconde nel pane. È che quel pane nell'eucarestia diventa il corpo di Gesù. E quando noi facciamo l'adorazione eucaristica non adoriamo Gesù che si è nascosto dentro il pane. Ma adoriamo una presenza reale del Signore Gesù nell'eucarestia. Al secondo posto metterei Cammineremo nella libertà. Anche questo non so se è un canto conosciutissimo. Però cari miei ha veramente dei versetti inudibili. Camminando sui fiumi e sulle acque perenni, piedi freddi ed un cuore sempre pieno d'amore. E che vuol dire che l'iricità della preghiera esprime? E ti senti più uomo, veramente te stesso, l'infinito ti canta le canzoni del cuore. Dai ragazzi diciamoci la verità, cioè siamo veramente nella peggio New Age. Tratto il ritornello fa Cammineremo nella libertà per dare amore a questa umanità. E se la notte ci sorprenderà il sole all'alba presto tornerà. E falla una preghiera per essere un canto liturgico. Cioè è un canto carino. Puoi fare la sera attorno al fuoco mentre fai un'attività. Ma non c'entra niente con la liturgia. Ma al primo posto c'è lui. Scusa signore. Cioè quando lo sento inizia a partirmi un rimestamento interiore. Scusa signore se bussiamo alla porta del tuo amore. Scusa signore se chiediamo mendicanti un ristoro da te. Scusa signore se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te. Eh ma semmai devi chiedergli scusa quando queste cose non le fai. Cioè esattamente tutto quello che vuole Dio. Ho capito che è una figura retorica. Cioè ti sto chiedendo scusa ma non è che ti sto chiedendo scusa. Però dai siamo seri. Cioè se devo chiederti scusa te lo chiedo per qualcos'altro. Te lo chiedo per quando del tuo amore mi frega niente. Per quando la tua mensa dell'amore non mi siedo. E per quando non mi sfiora neanche il pensiero che tu mi vuoi. Perché spesso è un canto che viene usato anche in funzione penitenziale. Sì ma il peccato è ben altra cosa che andare a chiedere mendicanti l'amore del Signore. Tratto non so se si dice dalle tue parti questo proverbio. Quando il mondo non mi vuol più mi rivolgo al buon Gesù. Eh va che il ritornello è così. Così la foglia quando è stanca cade giù. Così la gente quando è stanca vuole tè. Eh più o meno è quello. Niente classifica semiseria. Perdonatemi oggi mi è partito quest'area demenziale. E per un pensiero serio vorrei farlo. Ma quali sono i criteri per un buon canto liturgico? Basta che sia un canto nuovo. Basta che sia molto chitarrabile, ritmato e che piace ai giovani. Oppure che abbia un minimo di liricità. Il testo è una musicalità che ci apre al sacro. Forse è una cosa importante. A volte ho l'impressione che nel canto liturgico ci mettiamo una sorta di consumismo. Se è nuovo va bene. E non sono mica così tanto convinto. Noi di solito usiamo i ritornelli di Tesee e li usiamo anche non benissimo. Nel senso che li ripetiamo a una sola voce. Magari senza nessun accompagnamento musicale. E ma provo una volta a sentire una musica di Tesee. C'è una musicalità polifonica fantastica. Testi molto semplici ma biblici. Beh insomma è un altro modo di vivere il canto sacro. Nuovo ma con un suo stile. Non voglio sponsorizzare Tesee ad ogni costo. Però secondo me dobbiamo far saltare l'idea che nuovo è bello. O che chitarra contro organo vince chitarra se è una messa con i giovani. E non è vero. C'è una bellezza di un canto fatto in un certo modo. E di testi fatti in un certo modo. Che meritano di essere rivalutati. Tipo il canto gregoriano lo buttiamo via del tutto. A volte parte una sioma per cui latino senza accompagnamento musicale cosa antica da dimenticare. Sì ma ragazzi proviamo una volta a cantare la Dorotè devote di fronte all'eucarestia. Oppure Enacetum il venerdì santo. Hanno una musicalità, una liricità, una profondità del testo inarrivabili. Allora forse potremmo spendere qualche energia in meno a cercare tutti i canti nuovi che si trovano su YouTube. E provare ad affinarci l'orecchio per un canto sacro magari di un upgrade un tantino superiore. Ci educhiamo ai testi, ci educhiamo alle immagini perché non educarsi anche alla musica sacra. Anche quella un po' impegnativa che non ti cattura subito l'orecchio. E forse sarebbero ottimi strumenti per provare ad andare in profondità nella liturgia. Se questo video ti è interessato e vuoi dare una mano a sostenere il progetto di questo canale puoi fare alcune semplicissime cose. Mettere un mi piace qui sotto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, commentare con i tuoi pensieri e condividere questo video. È un modo con cui dici a YouTube che le cose che faccio qui ti interessano e potrebbero interessare anche ad altri. Se vuoi aiutarmi a raggiungere qualche persona in più, ti ringrazio.